Quali sono i sintomi più comuni di allergia al grano? Un'allergia al grano è un'allergia al quanto comune in cui il corpo risponde negativamente a varie proteine nel grano. Non è la stessa cosa della celiachia, che comporta una specifica infiammazione dell'intestino, ma può essere trattata allo stesso modo con una dieta priva di glutine. I sintomi dell'allergia al grano variano ampiamente, ma possono includere difficoltà di respirazione, indigestione e nausea. Altri sintomi possono includere reazioni cutanee, come eczema o orticaria, asma, starnuti e mal di testa. Data l'ampia gamma di sintomi associati alle allergie del grano, un singolo sintomo di solito non punta a una diagnosi di allergia al grano. Anche così, in alcuni casi le reazioni allergiche al grano possono essere fatali, quindi i sintomi che indicano allergie al grano devono essere osservati attentamente. Uno dei sintomi più comuni di allergie al grano è l'ezema. In alcuni casi, anche gli alveari possono svilupparsi. Anche il gonfiore è comune e può essere pericoloso quando si verifica nelle aree necessarie per la respirazione. Le reazioni cutanee sono un buon indicatore di un'allergia e dovrebbero essere studiate attentamente. In molti casi, i sintomi dell'allergia al grano possono includere problemi digestivi. Una persona può provare nausea, crampi o anche vomito. È anche comune sperimentare altri problemi digestivi, come la diarrea o la sindrome dell'intestino irritabile. Le persone spesso smettono intuitivamente di consumare oggetti che li fanno ammalare, ma questo è difficile con il grano perché così tanti alimenti includono le proteine del grano in modo discreto. I sintomi digestivi, quindi, hanno la possibilità di degenerare a livelli abbastanza seri. Alcune persone provano asma, raffreddore da fieno, starnuti o tosse come reazione al grano. Meno comunemente, mal di testa, artrite e altri tipi di dolore generalizzato sono associati a questa allergia. In alcuni casi, una persona può sperimentare vertigine o letargia. Questi sintomi sono molto generali e non dovrebbero essere usati isolatamente per determinare un'allergia. Una grande varietà di effetti mentali sono a volte associati all'allergia e al grano. Ad esempio, la depressione e gli sbalzi d'umore sono talvolta segnalati come sintomi di allergia al grano. In molti casi, questi sintomi sono legati a un senso generale di costante malessere, che spesso rende le persone infelice o depresse. I sintomi dell'allergia al grano diventano spesso più gravi con l'esposizione ripetuta. Questo è spiacevole, ma spesso rende più facile determinare cosa sta causando i sintomi in un periodo di tempo. In generale, una persona che sta vivendo molti dei sintomi di allergia al grano dovrebbe cercare assistenza medica, anche se l'allergia non è al grano, questi sintomi sono probabilmente associati a qualche tipo di condizione che dovrebbe essere diagnosticata da un medico.